Perché non mi racconti il tuo sogno? È sempre lo stesso. Sono su una barca, diretta verso l'isola. E poi che succede? Annego. Sei stato scelto. A tutti i miei studenti, benvenuti all'estrazione della lotteria. Il vincitore di questa sera sarà trasferito sull'isola, l'ultimo paradiso rimasto al mondo. Jordan 2 Delta, è il tuo momento. Ci vediamo sull'isola. Avrei voluto conoscerti meglio. Voi due, ma state troppo vicini. Ho la sensazione che ci sia qualcosa che non funzioni. Vorrei saperne di più. Di più? Sì, che non aspettare solo di arrivare sull'isola. Voglio vivere! Non voglio morire! Credo che fiano per ucciderti. Ma vado sull'isola. Jordan, non c'è nessun'isola! Gary! Due dei nostri prodotti sono fuggiti. Deve riprendere il controllo della situazione. Via, via, via! Non lasciatevi scappare! No! Perché ci hanno mentito? Voi non siete reali. Siete copie di persone che vivono nel mondo. No! Utilizzate qualsiasi mezzo sia necessario! Non è l'inco! Guarda, resisti! Non è l'inco! Si vengono! Ancora credi che ci sia un'isola? Ancora credi che ci sia un'isola 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 che ci sia un'is